Su questa Porsche Cayenne 958 dotata di PCM 4.0 ma sprovvista di retrocamera originale abbiamo avuto il compito di installare un retrovit che integrasse questa funzione di assistenza al parcheggio. Ora vi mostreremo il risultato. All'inserimento della retromarcia verrà visualizzata nel monitor originale la retrocamera che abbiamo installato nell'apertura portellone posteriore. Verrà mantenuta la grafica dei sensori di parcheggio originali e ci sarà anche l'integrazione delle linee guida sterzanti che migliorano la manovra. Se anche la vostra Porsche è sprovvista di tale funzione non esitate a contattarci il nostro sito è selcarshop.it Un saluto a tutti e al prossimo video!